Luigi Caldarola, l'ambito N31 del Comune di Torre del Greco, rischia di essere commissariato. Che cosa sta succedendo? Succede che purtroppo dopo 11 mesi dall'avvento di questa nuova maggioranza abusiva, in realtà non c'è programmazione, non partono i servizi e né tantomeno si è messo mano al nuovo piano sociale di zona nei tempi previsti e quindi si rischia un commissariamento che sancisce la definitiva disfatta di questa nuova amministrazione. Ritardi e inefficienze, ma a pagare sono le fasce deboli? Sì, perché molti servizi che avevamo programmato nel 2020 non sono mai partiti e ci sono ingenti ritardi anche sugli elenchi, quindi c'è anche una mancata trasparenza rispetto a quelle che sono delle problematiche che avevamo risolto grazie all'approvazione del nuovo regolamento che oggi è puntualmente disatteso. Ferma anche la situazione degli asili nido? Sì, l'asilo nido comunale con cui c'era stata data l'apertura dal 2015 in maniera continuativa, quindi un servizio offerto alle fasce 0,36 mesi, ad oggi risulta chiuso sia quello a Via Giovanni XXIII sia alla Don Bosco. Questo perché è dovuto sempre a un'incapacità amministrativa, oggi sia della parte tecnica guidata dalla dottoressa Sacco sia dalla parte politica che non è stata capace di attuare un indirizzo dato dall'assessore Refuto nel 2020 in cui erano stati stanziati ben 380 mila euro per far sì che ci fosse la continuazione del servizio e ad oggi è stata data priorità alle paritarie liquidando solo quell'importo. L'abbiamo attenzionato insieme ai colleghi dell'opposizione, speriamo che venga fatta chiarezza su questa anomalia riscontrata nella determina pubblicata pochi giorni fa. Oggi tra l'altro c'è un importante finanziamento giunto al Comune di Torre del Greco di circa 1 milione e 280 mila euro che va programmato entro il 20 novembre 2021, ad oggi non è stato ancora programmato. Abbiamo chiesto al Consiglio Comunale di esprimersi nel prossimo Consiglio Comunale speriamo che ci venga data l'opportunità nel solo e esclusivo interesse di Torre del Greco. Il commissariamento che cosa significa? Il commissariamento in realtà significa che oltre a sancire il fallimento della politica potrebbe in realtà dare un contributo perché sicuramente verrà presentato il piano sociale di zona seppur senza gli indirizzi politici ma comunque permetterebbe alle fasce deboli di avere tutti i servizi e garantire i servizi necessari. Siamo in attesa di conoscere quelle che sono le iniziative che sta facendo l'ambito perché ad oggi non ci sono atti pubblicati, non c'è nulla di ufficiale ma solo rumors che per adesso non trovano riscontro né danno la certezza alla città di Torre del Greco di essere governata con certezza e concretezza dai soggetti che oggi sono gli attori principali di questo settore. Quando parliamo di fasce deboli chi intendiamo? Chi sono i destinatari di questi servizi? Le politiche sociali riguardano sia gli anziani disabili ma anche coloro che magari sono in uno stato di disagio e lotta alla povertà insomma è veramente un settore che è cruciale in questo momento storico della nostra nazione e del mondo intero visto che abbiamo avuto una pandemia che comunque sicuramente ha debilitato ulteriormente le fasce già deboli che avevano una storicità di debolezza sia economica e quindi è un settore cruciale in cui l'amministrazione fino ad adesso aveva dato il giusto risalto con delle iniziative che sono oramai interrotte da quando c'è stata questa nuova maggioranza e che purtroppo costatiamo il totale abbandono delle fasce deboli. Grazie Grazie Grazie